Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi il nuovo video a tema streaming. Lo streaming è un tema che avrei voluto portare sul canale davvero già da tanto tempo, ma per una cosa o per un'altra non ho mai avuto modo di farlo. E ragazzi, colgo l'occasione proprio oggi per farlo grazie ai Digital Movie Days. Cosa sono? È una manifestazione che promuove la visione dei film in digitale, così come dice il nome stesso. E proprio dal 23 ottobre al 2 novembre su tantissime piattaforme aderenti come Cili, Rakuten TV o Amazon Prime Video o ancora Team Vision e tantissime altre avrete l'occasione di acquistare una grandissima selezione di film a 4,99€ l'uno. Ma si tratta di acquisto e non di noleggio streaming, quindi questi titoli rimarranno vostri per sempre. È davvero una selezione molto molto grande e per qualora foste interessati vi lascio sotto in infobox il link a questo evento. Ma detto questo, passiamo al video di oggi che appunto è dedicato allo streaming. Come vedete la mia maglietta di Pampling, 7 Potter, codice sconto in infobox 20% su tutti i vostri acquisti. È a tema Casa di Carta, che è forse la serie più famosa che troviamo su Netflix. E di oggi ho qui il mio bel portatile perché finalmente voglio commentare con voi le mie visioni su Netflix. Uso ormai Netflix da un bel po' di anni, da circa tre anni in modo proprio molto assiduo. E però solo durante il lockdown e poi quest'estate ho davvero usufruito tantissimo, come molti di voi, di questa piattaforma. Sono abbonato anche ad altre come Disney Plus, sono abbonato anche ad Amazon Prime Video. Ma Netflix al momento forse è quella che mi dà più contenuti in linea con i miei interessi. E ultimamente appunto ne ho visti davvero tantissimi. E vorrei commentare proprio con voi le cose che mi sono piaciute, le cose che non mi sono piaciute. E appunto vorrei anche dei consigli da parte vostra perché ho delle serie messe nella mia lista che non ho ancora cominciato per una cosa o per un'altra. E vorrei magari sapere se secondo voi ne vale la pena spenderci così tante ore. Io direi di cominciare subito e cliccando sulla mia lista la prima cosa che mi appare è le regole del delitto perfetto. Questa è una serie che per chi non la conoscesse parla di un avvocato, Annalis Keating, e dei suoi studenti. Lei insegna in un'università, ha una piccola cerchia di studenti che l'aiutano a risolvere dei casi e poi naturalmente andranno incontro a tantissime disavventure. È una serie molto forte, molto drammatica per certi versi. Io l'ho cominciata quest'estate sotto pressione di alcuni miei amici che me la consigliavano da tantissimo tempo e finalmente mi sono deciso. La prima stagione devo dire che l'ho finita a fatica. La seconda mi è piaciuta un po' più della prima ma devo dire che è in grana davvero dalla terza. Dalla terza non la si molla più. Io ho visto la terza e la quarta praticamente in dieci giorni. La quinta è arrivata su Netflix, qualcosa come 15 giorni fa e l'ho già finita. E adesso è stato annunciato che il primo novembre uscirà anche l'ultima stagione, la sesta. E quindi ragazzi non vedo l'ora di vederla. Io ho questa serie super approvata, quindi top, super super approvata. Ve la consiglio caldamente. La sesta stagione sarà l'ultima e quindi vedremo come andranno a finire le avventure di Annalise e di tutti gli altri studenti. Poi, prossima serie che trovo qui sulla mia lista. Ragazzi questo sarà un video molto semplice, non mi sono scritto nulla, non ho appunti, quindi magari sbaglierò alcune cose e mi perdonerete. La seconda serie è Lucifer. Lucifer in realtà l'ho aggiunta nella mia lista, ma non l'ho ancora vista. Non ho visto neanche un episodio. Sento pareri molto contrastanti, soprattutto tra i miei amici. Ad alcuni piace, ad alcuni non piace, alcuni l'amano, alcuni la odiano. A me il tema credo che potrebbe interessare, però non sono convintissimo. E quindi fatemi sapere voi nei commenti se Lucifer è una serie da guardare, se dovrei guardarla, o se magari è tutta fuffa ma niente arrosto. Quindi fatemi sapere, non lo so, non mi convince al 100% questa serie. Poi, passiamo avanti. Ho visto anche Boris. Boris l'ho recuperato durante la quarantena. Era anche questa una serie che volevo vedere da tantissimo tempo. Se non ricordo male, prima si trovava su Amazon Prime, poi è stata tolta e finalmente l'hanno aggiunta poi su Netflix. Io su Amazon Prime forse avevo visto una o due puntate, poi l'avevo mollata. E, ragazzi, vi dirò, qualora la cominciaste, superate lo scoglio della prima stagione, che è davvero molto vecchia e quindi la qualità video è molto bassa. Perché poi dalla seconda migliora tantissimo. In totale sono solo tre stagioni, ma, ragazzi, è qualcosa di geniale. Per chi non conoscesse Boris, in grande linee, si tratta della produzione di una fiction, una fiction di quelle squallidissime, basate sulle cliniche, dottori, è ambientata in Italia e praticamente ci parla delle vicissitudini tra il regista, il fonico, chi si occupa della fotografia, gli attori di questa fiction davvero molto, molto squallida e tutto il meccanismo che c'è dietro. Ed è, ragazzi, davvero comica da morire. Fa riflettere, fa ridere tantissimo. E purtroppo ci racconta quello che è la televisione del giorno d'oggi, di come vengono partorite delle fiction e delle serie così demenziali e brutte, fatte davvero male qui in Italia. Quindi ve la consiglio tantissimo. Uno dei protagonisti è Pannofino, che interpreta René, il regista degli Occhi del Cuore, che è appunto questa fiction che girano loro. E René, appunto, Pannofino, altri non è che è la voce di Hagrid, il doppiatore di Hagrid. Quindi vi farà anche molto piacere sentirlo parlare. Ha una voce molto, molto caratteristica. Prossima serie, vabbè, Stranger Things. Ragazzi, questa qui non ci sto a perdere molto tempo. Le ho viste tutte le stagioni. Se non sbaglio, al momento siamo a tre stagioni o due, non ricordo, forse tre. Comunque, le ho viste tutte. Stiamo aspettando la nuova, che credo sia la quattro. Quindi, sì, ne sono già uscite tre. A me piace. C'è chi la odia, c'è chi la disprezza. A me devo dire che non dispiace. Non la ritengo una serie drammatica, visto che è stata inserita negli Emmy come serie drammatica. Ma, secondo me, no. È un teen drama, forse, astento. Però, a me piace. Piace tanto. Su questo non ho molto da dire. Altra serie che non ho mai cominciato, ma che ho messo in lista parecchio tempo fa, è Peaky Blinders. Ne ho sentito parlare tantissimo, così come Breaking Bad. Io Breaking Bad l'ho cominciato, ho visto due episodi, ma non sono riuscito ad andare avanti. Vi dirò la verità. Peaky Blinders sembra promettere bene, perlomeno la critica l'acclama, la gente l'acclama. Io non ho ben capito di cosa parli, so solo che si danno scazzottate. Forse si parla di proibizionismo, non ne sono tanto sicuro, però. Credo sia ambientata anche questa nel Regno Unito. Non vorrei dire una fesseria, ma non credo sia ambientata negli Stati Uniti. L'ambientazione per me è ok, mi piace anche il periodo storico, però vorrei capire. Ne vale la pena? Ha una bella trama? Di cosa parla? Boh, fatemi sapere sotto nei commenti. Una serie che invece ho finito e che mi è piaciuta abbastanza, mi è piaciuto anche il film che è uscito di recente, Kimmy Smith contro il Reverendo, che è un film game, quindi con delle scelte, ma fatto sicuramente meglio di quello di Bandersnatch, quello lì di... non mi ricordo più come si chiama quella serie strana, ve lo dirò successivamente perché sarà sicuramente in lista. E ragazzi, Bandersnatch mi era... ok, Black Mirror, ecco, mi è venuto in mente così. Bandersnatch mi era piaciuto, però c'era qualcosa che non funzionava proprio benissimo. Mentre invece si riesce a finire il film di Kimmy Smith anche saltando parti della trama, anche prendendo scelte non strettamente vincolate dal gioco, quindi ci sono anche due finale alternativi. L'ho trovato fatto meglio, molto divertente e, piccola nota, c'è Daniel Radcliffe come protagonista nel film di Kimmy Smith, quindi il nostro Harry Potter, che è stato davvero molto bravo secondo me in questo film. Kimmy Smith parla di una ragazza, una ragazza talpa, una ragazza che è stata sequestrata e tenuta in un bunker assieme ad altre tre ragazze per un bel po' di anni da un reverendo che le ha convinte che fuori il mondo non c'era più a causa di un'apocalisse nucleare, una cosa del genere. E invece il mondo c'era ancora, loro alla fine l'hanno scoperto, sono riusciti a scappare da questo bunker e lei si ritrova appunto nella società, nel mondo d'oggi, però mentre la sua mente era rimasta negli anni 90. E quindi faticherà un po' ad ambientarsi in questo nuovo mondo, ma troverà degli amici spassosissimi, uno su tutti, Titus, che mi fa morire dal ridere. Quindi ragazzi, Kimmy Smith, episodi brevi, molto divertenti, mi piace un sacco. La critica è Tina Fey, per chi sapesse di chi stiamo parlando, quindi una garanzia. Altra serie che mi è piaciuta moltissimo, The Good Place, mi manca solamente la nuova stagione, quella che dovrebbe arrivare a breve, spero si sbrighi Netflix ad acquisire i diritti, perché non vedo l'ora di guardarla. Mi è piaciuta tantissimo, è molto molto divertente. Ragazzi, di cosa parla? Parla del paradiso, barra inferno. C'è questa ragazza che viene investita, muore e va a finire in paradiso. Va a finire in paradiso, ma ci va a finire per errore, perché nello stesso momento è morta un'altra persona col suo stesso nome e, per un errore, lei è finita in paradiso, che era molto cattiva in vita, mentre quell'altra persona è finita all'inferno. E lei dovrà fingersi buona per poter rimanere in paradiso e non farsi scoprire. Ma c'è molto molto di più dietro e c'è un bel plot twist alla fine della prima stagione, quindi ve lo stra stra consiglio, The Good Place, super super consigliata. Poi, altra serie, abbiamo The Crown. The Crown, ragazzi, a novembre il 15, se non sbaglio, arriverà la quarta stagione, l'ultima, dove ci sarà ancora questa regina, mentre dalla quinta avremo, ragazzi, l'attrice Imelda Stoughton, se non sbaglio il cognome si pronuncia così, ma non sono sicuro, che è l'attrice che, invece, interpretava Dolores Sandbridge nel Harry Potter. Sarà lei di interpretare la regina Elisabetta nelle ultime due stagioni, quinta e sesta, quindi sono molto molto curioso di vedere il nuovo cast, ma sono anche molto curioso di guardare questa quarta stagione, perché sarà molto incentrata su Carlo e Diana. Quindi sono super super elettrizzato all'idea, e The Crown, secondo me, è la miglior serie che trovate oggi sul catalogo di Netflix, come originale Netflix. Altra serie che ho visto di recente, che mi è piaciuta, divertente, è la serie di Steve Carell, Space Force, che è una sorta di presa in giro alla presidenza Trump, e soprattutto la scelta di Trump di creare, appunto, questa Space Force, questa specie di esercito spaziale, e loro l'hanno preso proprio alla lettera, hanno creato questo esercito molto molto demenziale, e poi c'è Steve Carell, ragazzi, è Steve Carell, cosa volete dire? Bene, altra serie, Sabrina, Sabrina, le avventure di Sabrina, che a me piace, è piaciuto molto, l'avevo inizialmente snobbato, poi sotto consiglio l'ho cominciato, e devo dire che mi piace tantissimo, mi piace anche la fotografia di questa serie, mi piace anche la trama, sono sincero, e è da un po' che non vediamo nuovi episodi, credo che entro Natale dovremmo riuscire ad avere la parte conclusiva, perché se non ricordo male, è stata chiusa, o comunque è arrivata alla fine del suo arco narrativo, quindi dovrebbe essere conclusa, Sabrina è un reboot, se così vogliamo dire, di Sabrina vita da strega, quello che andava in onda su Italia 1 un millennio fa, questa però credo sia tratta dai fumetti, però mi piace, mi piace davvero tantissimo, ve la consiglio, come vi consiglio anche The Politician, The Politician di Ryan Murphy, ragazzi, io l'ho amata, abbiamo già due stagioni, si tratta appunto di politica, nella prima troviamo la politica a livello scolastico, nella seconda invece a livello locale, e nella terza invece dovremmo parlare di politica a livello nazionale, infatti si corre per la presidenza degli Stati Uniti, e per la vicepresidenza, io vi consiglio di guidare il trailer, perché è una serie molto colorata, molto inclusiva, molto divertente, non è pesante per niente, ha dei tratti molto molto comici, mi piace, è esagerata, è davvero bella, sotto alcuni aspetti forse anche un po' grottesca, ma mi piace davvero molto. Una serie invece flop, che mi avevano consigliato, mi ha consigliato anche Netflix, ma evidentemente non mi conosce molto bene, è Lock and Key. Lock and Key ho provato, ho guardato esattamente tre episodi, e poi mi sono fermato, non ce l'ho fatta ad andare avanti, si parla di una famiglia che si trasferisce in questa casa, dove trovano delle chiavi spasse nei quadri, nei mobili, e ogni chiave ha un potere particolare, queste chiavi sono legate a quanto pare al nonno, al padre di questi ragazzini, ci sono dei misteri in questa casa, ma non lo so, c'è qualcosa che secondo me non funziona, o sono gli attori, o qualcosa nella trama, ma non mi ha preso per niente, ditemi voi se dovrei dargli una seconda possibilità. Poi, vediamo di cosa vi posso ancora parlare, ok, Black Mirror, prima non ricordavo il titolo, Black Mirror, non credo di averla vista tutta, vediamo un attimo qui, ho visto le prime tre stagioni per intero, mi manca tutta la quarta, mi manca anche la quinta stagione, che sono solamente tre episodi, però sono belli lunghi a quanto vedo, questa è una di quelle che devo riprendere, Black Mirror, ogni episodio parla di un futuro distopico, dove la tecnologia, perlomeno nella maggior parte degli episodi, ha preso il sopravvento, e ci fa aprire un po' gli occhi sull'abuso che facciamo del nostro telefonino, dei social, della tecnologia in generale, quindi fa riflettere, sono bei pugni allo stomaco ogni volta che si guarda una puntata, quindi ve la consiglio. Come vedete, praticamente vedo tantissime serie su Netflix, ancora qui ce ne sono tante, cercherò di essere più veloce e di consigliarvi al volo alcuni titoli, poi abbiamo Elite, che credo la conosciate tutti, serie spagnola, ci sono anche alcuni attori della Casa Ricarta, si svolge all'interno di un liceo esclusivo, dove è una sorta, diciamo, di gossip girl però alla spagnola, quindi vi siete un po' fatti un'idea, però a me è piaciuta, l'ho vista con piacere, poi The Witcher, The Witcher, ragazzi, è stata la serie fenomeno del... praticamente dell'anno scorso, io non ho mai giocato al gioco di The Witcher, però mi è piaciuta molto la serie, e a breve dovrebbe arrivare anche la seconda, quindi l'aspettiamo. Altra serie da segnalare, You, You, questa è la serie che praticamente parla di uno stalker, che continua a stalkerare gente, ammazzare donne, ma continua a farla franca, e anche in questo caso serie molto ben scritta, secondo me, serie che si lascia guardare con molto piacere, non è pesante, le puntate sono lunghe e il giusto, quindi siamo intorno ai 40-45 minuti, 10 episodi per stagione, e ragazzi, ve la consiglio, questa molto molto bella, e poi vediamo se ho qualche altra cosa da consigliarvi o da non consigliarvi, vi consiglio la mini serie Gli Ultimi Zar, che parla di Anastasia e della fine della dinastia di Romanov, è una sorta di docuserie, una mini docuserie, che mi è piaciuta molto, poi La Casa di Carta, vabbè che ve ne parlo a fare, l'hanno vista anche I Muri, poi The Ombrella Academy, ho finito la seconda stagione, mi è piaciuta molto, mi è piaciuta devo dire anche molto di più rispetto alla prima, i personaggi hanno avuto una buona evoluzione, si tratta di cinque fratelli, che hanno dei poteri sovrannaturali, ma non sanno da dove provengono, sono stati adottati da un ricco eccentrico, e si trovano continuamente a dover salvare il mondo, detta così sembra una banalità, un solito telefilm di supereroi, ma non è assolutamente così, i poteri sono assolutamente in secondo piano, in questa serie, ma è molto molto bella la fotografia, l'ambientazione, i costumi, è davvero molto molto bella questa serie, sotto diversi punti di vista, E-Way, ragazzi E-Way, E-Way è uscita praticamente da un mese, io l'ho guardata, parla del viaggio, dei primi uomini che andranno su Marte, quindi ci fa vedere questo lunghissimo viaggio, di nove mesi per raggiungere Marte, con tutte le difficoltà, i problemi, con gli effetti lasciati sulla Terra, quindi la vita di questi astronauti, anche a livello umano, psicologico, delle loro famiglie, che dovranno affrontare questo viaggio, di sola andata, di nove mesi, ma anche poi, di due anni passati su Marte, del ritorno, la prima stagione si conclude, con l'arrivo su Marte, ma a quanto pare, è stata cancellata, a me era piaciuta tantissimo, l'avevo consigliata a Mezzomondo, ma adesso mi stanno tutti maledicendo, perché praticamente, non ci sarà un seguito, a quanto pare, a meno che non ci siano rivolte, come fu per Sense8. E, per finire, piccola nota, per Emily in Paris, che mi è stata spiattellata, per due settimane, in homepage da Netflix, alla fine ho ceduto, una serie di 20 minuti, senza infamia, senza lode, questa ragazza americana, va a vivere a Parigi, e dovrà affrontare, lo stereotipo, dei francesi, con la puzza sotto il naso, antipatici, cosa che, secondo me, tra l'altro è, sono stato, più di una volta a Parigi, più di una volta, mi sono trovato male, ma, chiudiamo questa parentesi, la serie comunque, per passare 20 minuti di tempo, va anche bene, molto, 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 molto leggera, ragazzi, io qui, ho tantissima altra roba, potrei ancora andare avanti, per tantissimo tempo, vi ho, naturalmente, risparmiato, tutte le vecchie serie, come può essere Friends, o come possono essere, altre serie, alla fine, arriva Mamma, eccetera, eccetera, quindi, queste ve le risparmio, e direi, che, con questo, ho recuperato, abbastanza, ragazzi, fatemi sapere, voi nei commenti, cosa dovrei guardare, cosa non ho messo nella mia lista, cosa non ho ancora visto, e che secondo voi dovrei guardare, assolutamente, sono sempre in cerca di, nuove cose da guardare, ad esempio, al momento, sono in attesa, della sesta stagione, delle regole del diritto perfetto, e della seconda, della quarta, scusate, di The Crown, e quindi, sono orfano di serie, e sarebbe il momento giusto, per farmi cominciare, qualcosa di nuovo, quindi, ci tengo particolarmente, ai vostri commenti, mi raccomando, fatemi sapere sotto, qualora voleste, invece, parlarmene in privato, mi trovate su Instagram, Antonio.seria, e, a questo punto, ragazzi, vi ricordo di andare in infobox, per guardare, l'evento, dei Digital Movie Days, e, io vi do appuntamento, prestissimo, con tante altre novità, e, non mi resta, che salutarvi, ciao! Ciao!